Salutiamo Patrizia Fanelli e un po' tutto il paese del Papa, ormai lo chiamiamo così Porta Comano Grazie a G. Bughini, a Pimbo Franco Adesso una storia bellissima, siamo già in collegamento a Nelio Iacobini in un ospedale di Palermo dove sono nati cinque gemelli E lì c'è la mamma, ci sono i sanitari tutti, è troppo chissà